Tenacia e perseveranza, unità, spirito di sacrificio e duro allenamento fanno di un nuotatore comune un campione. Nelle file della società fanno un fortuna e nuoto che da un anno a questa parte, grazie a preparatori di livello nazionale come Massimo Russo, ex allenatore del campione mondiale di fondo Simone Ruffini da Tolentino, e ad una scelta societaria coraggiosa di fare un percorso autonomo di investimento in promozione dello sport del nuoto e di strutture come la piscina comunale che fossero sempre più inclusive e partecipate dalla comunità, che oggi si possono raccogliere i primi lusinghieri frutti e dai recenti campionati regionali di categoria estivi, svoltisi a Pesaro dal 12 al 15 luglio, che sono arrivate ben 14 medaglie individuali, un bottino mai ottenuto fino ad ora. Ho vinto tre medaglie ai campionati regionali e tre bronzi nelle specialità 50, 100 e 200 rana e nella categoria seniores. Allenamenti duri? Eh sì, più che altro molto faticosi, allenamenti doppi, quindi sia mattina che pomeriggio, però ci siamo tolte delle belle soddisfazioni, quindi siamo molto contenti dai. Tu invece sei? Sono Rebecca Raggi e mi sono classificata terza nei 400 metri stile libero e seconda negli 800 metri stile libero della categoria cadetti. Anch'io, come ha detto la vigna, me lo aspettavo il podio dei 400 e leggermente di meno quello degli 8, in quanto le mie avversarie erano abbastanza forti. Sono Nicola Bellagamba e sono arrivato secondo nelle gare dei 50 d'orso, 100 e 200 d'orso ai campionati regionali di categoria. Una soddisfazione? Ti soddisfa questo risultato? Sì, sì, è un traguardo che mi soddisfa molto e sono contento. Adesso la settimana prossima ho le finali regionali e vediamo un po' come andrà. Sono Matteo Memè, ho vinto i 400 metri misti, sono arrivato secondo nei 200 metri misti e terzo nei 200 d'orso e nei 400 stile libero. Sei contento? Sono molto contento perché è da inizio stagione che lavoriamo per raggiungere questi risultati. Dura? Dura sì, però se uno ci mette la voglia e l'impegno diventa meno dura. Tu invece? Io sono Luca Galli e sono arrivato terzo nei 400 misti e nei 1500 stile libero. Quindi, insomma, lunga distanza, ti piace la lunga distanza, dai il meglio? Sì, nelle distanze più lunghe riesco a esprimere il meglio. Tu invece con due belle medaglie di regento? Io sono Matteo Gramolini e ho vinto i 4 misti nel 1500, sono arrivato secondo per poco, cioè nei 4 misti per 8 decimi non arrivavo primo, però vabbè. Nel 1500 c'è un distacco irraggiungibile dal primo, però la prossima settimana cercherò di dare il massimo e vincere. La prima posizione è a portata di mano, insomma? Sì, nei 4 misti darò il tutto per tutto.